Ma questo discorso è un discorso di un tale realismo la forma è contenuto A Caravaggio non gliene è fotte niente di San Pietro caduto da cavallo, che è in croce, di San Paolo gliene è fotte dalla culo del cavallo, la luce arriva là e la grandezza di Caravaggio sta sul culo del cavallo non su quelle che pensa San Pietro per terra Ma tu adesso cosa vuoi che io dico se hai detto tutto tu? Allora, l'affezione per il noir per me diventò prima una conoscenza letteraria ancorché poi divenne cinematografica perché io leggendo nei diari di Gid scoprì Hammett e naturalmente il fatto che un giallista fosse citato da Gid come scrittore all'altezza di Hemingway di Steinbeck mi sorprese molto e in verità di quei libri in Italia ce ne erano pochi di Hammett era stato tradotto uno o due mi pare Piombo e sangue, pochissima roba ed era l'età in cui mi piacevano molto i noir, soprattutto quella da Werner Bros e poi la coppia di Alan Ladd, un pessimo attore che faceva con Veronica Lake ed era proprio, come dire, una lunga serie di film hanno fatto con un caratteristico che si chiamava William Bennett e insomma era il genere che tutto sommato preferivo perché a quell'epoca arrivarono tutti i film americani girati durante la guerra e un po' prima i film quando Mussolini impedì che entrassero i film americani in Italia tranne qualcuno su cui poteva speculare negativamente e quindi era il genere che mi piaceva più del western che era un film western ovviamente era il film infantile per eccellenza però io chissà perché ero legato a quel tipo di personaggio un po' perché forse essendo figlio d'avvocato e nipote perché mio nonno era avvocato, mio padre era avvocato poi dopo io studiai legge di questa gente qui ne conoscevo e naturalmente avevo anche, come dire, essendo figlio di notabili questi delinquenti avevano verso di me un comportamento talmente eccezionale di protezione che non che ce ne fosse bisogno ma insomma, come dire, lo mostravo questa è una componente psicoanalitica magari così di nessun conto ma può darsi pure che c'entri allora, battete fianca stasera è quello te lo sei lasciato scappare brava non vuole non vuole come non vuole allora sei volvo oh non ho tempo e quindi naturalmente quando io iniziai a girare film e a scriverne dipendeva un po' soprattutto da che genere di film volessero per accontentarli perché è chiaro che il cinema nel cinema, voglio dire i generi esistono pertanto se facevo un western la componente doveva essere western se facevo un film ad azione doveva essere così e naturalmente dovevo poi anche rispettare la personalità dei registi perché Leone si nutriva di un certo tipo di scrittura cinematografica Ducci Tessari era molto più ironico gli piacevano più le gag secondo me c'è una gag apro una piccola parentesi di Tessari a inizio film del ritorno di Ringo no di una pistola per Ringo che lui sta giocando a quel gioco della campana e quel gioco che fanno i bambini che segnano col gesso per terra e fanno i saltelli poi si girano eccetera e lui gioca e quando si rivolta intanto i cattivi si stanno sistemando lui si rivolta e ammazza tutti quanti la cito perché la gag non è mia è sua e secondo me è geniale perché sta dicendo al pubblico vogliamo giocare e così poi naturalmente qualche volta ho prevaricato c'è per esempio Guerini che è stato il primo che ha fatto il film diciamo così non lo chiamo Noir ma insomma un film d'azione ambientato a Roma è stato il primo a battersi per farlo e devo pur dire che poi i distributori glielo fecero fare perché insomma la sceneggiatura era la mia ci mette un po' le mani senza senza togliere niente a nessuno insomma gli diedi una mano ad ottenere fiducia ecco questo è il termine giusto e io ne feci due uno diciamo così originale un altro tratto da un libro e andarono discretamente facendo questi due film si creò chiamiamolo un precedente nella sempre nella distribuzione perché bisogna sapere che e chi erano i padroni delle decisioni dei film erano i distributori non erano neanche i grandi produttori tipo Goffredo Lombardi Lombardo della Aurendis eccetera eccetera questo l'ho già detto ma mi piace ripeterlo perché questi grossi per fare un film facevano dodici telefonate quando erano la Lombardia il Veneto la Sicilia il Lazio eccetera eccetera e dicevano voglio fare un film di Dio con questi attori di questo genere quasi e quelli dicevano sì il film si faceva se no anche se il regista era Fellini il film non si faceva e di fatti Fellini dopo due film che non incassarono il film è tratto da Petronio nonché La nave va eccetera non ha fatto più film sembra nessuno se ne è accorto perché ha fatto Provo d'orchestra piuttosto che La città delle donne insomma un film alla Fellini non li ha più fatti perché non portando i soldi a casa ha smesso di fare il regista poi c'è stato Gingera Frede perché è subentrato la televisione ma Fellini dopo come un qualsiasi registucolo italiota quando i suoi film non hanno più incassato ha finito di fare il regista allora torniamo infatti quindi quando la distribuzione si accorse che bene o male questi film qui erano accettati subentrarono il al western subentrarono i poliziotteschi che naturalmente non si chiamarono polizieschi perché quella stronza critica italiana perché è sempre stata così non ha capito il western non ha capito quest'altro genere non ha capito mai niente da sempre disprezzato la commedia all'italiana che è il solo testimone della storia d'Italia è la commedia all'italiana da quando è nata da prima del fascismo ad oggi quando gli storici vorranno vedere com'era l'Italia ricaveranno più dalla commedia all'italiana che da altro chiudo la parentesi la critica anche per insultare insultarci creò il termine poliziottesco invece di poliziesco quindi quelli erano i western maccherone e questo era il poliziottesco che è sempre una maniera dispregiativa nei confronti di un genere e niente poi si cominciarono a fare ebbero successo e se ne fecero un po' meno i western sono stati 400 questi qua credo che non raggiungano i 300 comunque da qualche parte c'è il numero preciso del poliziottesco all'italiana io mi mi ero già non dico inserito nel genere ma forse con un po' di date e con una prosunzione che io odio esprimere forse l'avevo pure anticipato con il libro di Scerbanengo i ragazzi del massacro perché lì era lo schema era quello c'era il poliziotto umanizzato socializzato rispetto a quello che accadrà dopo che si curava dei ragazzi e andava avanti così e devo anche dire ho parlato male dei critici adesso parlo un po' male dei giornalisti pure la pubblicistica in Italia non si occupava tanto dei ragazzi eh dei giovani di che cosa stavano diventando di che facevano di quali erano i loro miti stiamo parlando dei primi anni 60 quando in America era tutto chiaro perché Watt è del 63 quindi brucia ragazzo brucia che è soltanto un furto da parte mia al titolo della canzone americana che diceva in Inghilterra in inglese Burns Bobby Burns ecco qui lì era già successo tutto nelle università nei ghetti negri eccetera in Italia che c'erano i ghetti bianchi ci sono ancora oggi ma insomma lasciamo perdere la pubblicistica se ne occupava poco quindi il libro di Scerbanenco non ebbe manco tanto successo si vendicchiò un po' di più dopo che feci il film il film io devo precisare che il film non è che andò tanto bene perché io sono un avventuroso invece di pigliare a capponi se pigliavo a Giuliano Gemma piuttosto che quel morto di sonno di Franco Nero eccetera il film avrebbe avuto un altro iter e invece no io andavo fuori dalla tipizzazione perché pensavo che con la faccia nuova il film era più pregnante questa naturalmente era solo un'idea intellettualistica e come tutte le idee intellettualistiche stupide perché quando si fa il cinema bisogna che la gente magari che tramite Giuliano Gemma veda il prodotto il film faccia soldi e il cinema è altro rispetto a quelle che ogni tanto uno si ficca in testa allora volevo dire probabilmente questo film qui con le date in mano insisto è stato il precedente il precedente ripeto con contenuti e modalità modalità assolutamente diverse da quelle che poi è stato il momento il momento forse non è il migliore ma certo è il più adatto possiamo parlare si lei vuole vendicarsi e passarla liscia sono pronto a tutto no a tutto no altrimenti sarebbe facile per lei potrebbe costituirsi e dire la verità commissario le daremo Pascal si le diamo Pascal se vuole venga con la sua squadra ad eliminarlo stasera la conceria Stix alle 10 sarà lì e lei ne farà quello che vuole non posso portare la squadra era un'opportunità per farle capire che giochiamo pulito venga solo e se ancora non si fida porti chi le pare gente ovviamente sicura è sua che programmi avete? di questo ne parleremo domani appena sistemata la faccenda di Pascal lei è sospeso non è vero? si allora appena tornerà in servizio ne potremo parlare ci vediamo stasera ci sarò anch'io la stasera nei miei film i poliziotti o i commissari hanno caratteristiche diverse assolutamente da quelli che sono negli altri film degli altri registi che sono una decina che hanno fatto dei poliziotteschi insisto uso questo termine per capirci meglio di solito non sono degli eroi che fanno inseguimento spalle perché nella realtà nella realtà e questo ripeto non perché ne ho conosciuti tanti nella realtà i commissari non sono una decina di solito non sono mica come quelli che abbiamo visto nel polizia tesca italiana ma nella maniera più assoluta tutte queste cose qui eccetera eccetera l'eroismo le sparatorie non sono mai esistite ma le avete mai lette voi nei giornali di un commissario che fa l'inseguimento spare eccetera eccetera può essere anche capitato ma in realtà le indagini gli arresti in Italia come nel mondo perché pure gli americani barano solo che in America sparano in maniera più facile e quindi come dire l'aspetto sembra più realistico ma in realtà nel mondo i commissari di polizia stanno a sentire o spione o spione gli dice quello quello fanno la trappolina eccetera tutte queste sparatorie tutte queste cose non ci stanno quindi io trattandoli come li ho trattati credo di essere stato molto più realistico di quello che come dire abbiano fatto gli altri per quanto riguarda il poliziotto a marcia in particolare ma che sa quanti i commissari di polizia sono stati arrestati e denunciati per sto fatto qua ma proprio tantissimo cominciando dal commissario Sciret voi siete giovani non sapete manco chi è uno che gli piaceva giocare a casa eccetera ma per dire i miei sono realistici veri quelli degli altri dubito molto che ne esistano nel dubbio c'è certamente qualcuno che è stato così e che magari ha fatto inseguimento di qualche sparatoria ma insomma i giornali leggiamo tutti quei film là non hanno niente a che vedere con la pubblicistica che si leggeva nello stesso periodo in cui li facevano mentre l'indrico dei miei film la mala ordina soprattutto è quella è molto più vera molto più possibile la lotta all'interno della malavita era quella o come appare negli altri film perché quella la leggiamo da Napoli a Palermo leggiamo che si ammazzano tra loro e come lo fanno quindi io continuo a dire sempre dell'iperbole che il cinema purtroppo dà le cose io ritengo di aver fatto dei film realistici o quantomeno togliendomi parecchio diciamo più realistici degli altri assolutamente i miei personaggi sono tutti più veri psicologicamente sono tutti più esatti e quando c'è il piccolo delinquente o quando c'è la 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 mafia e e altro ma anche per esempio nel nel film i padroni della città quello è un altro film veramente realistico è meno noto degli altri miei film ma in realtà quel tipo di vita quella maniera quelle piccole ruberie quelle piccole fregature quei piccoli personaggi ma ne è pienissima la 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 malavita quindi io insisto e rivendico questo fatto realistico poi certo stanno le sparatorie i colpi invece di essere due sono 50 e questo è cinema ragazzi io facevo i miei film si faceva il poliziotto poliziottesco agli italiani e due o tre grossi registi non voglio fare i nomi si facevano l'aureola con sciascia mi capito però chi ha aspettato i picciotti sotto casa e ha avuto i film sequestrati e le querele dai ministri sono stato io non quelle che si facevano la sega con sciascia genio a cui mi prosto quando io faccio il poliziotto e marcio faccio la storia di un poliziotto marcio non faccio indagini al di sopra di ogni sospetto che può anche essere un film migliore del mio non dico di no ma lì abbiamo a che fare con un neurotico chiaro? con me abbiamo a che fare con un poliziotto che si fotteva i soldi ed è questo che è rivoluzionario non quello ci siamo riuniti per chiudere una volta per sempre questa faccenda spiacevole d'accordo c'è chi ha subito dei torti e c'è chi si è fatto prendere la mano chi ha subito dei torti si è ripagato e i conti devono essere considerati chiusi ci sono troppi interessi in gioco per attardarsi in faccende strettamente personali per me va bene non ne parliamo più basta che tutti siano d'accordo e io poi facendo questo genere noir ho avuto parecchi guai con la giustizia ma devo dire che con la giustizia non so se devo chiamarle giustizia quella che rappresenta i cialtroni ma devo dire che già col primo film che io feci cioè ieri, oggi e domani che facevamo accuse al pagamento delle indulgenze del Vaticano perché non so se sapete che uno dà i soldi agli orfani questi orfani fanno le preghiere per te e se stai in purgatorio ti levano qualche anno la chiesa le ha inventate tutte allora già dal primo film mi diedero fastidi io ho corsi all'unità per avere aiuti insomma poi il film uscì l'altro film con cui è Binoia fu sequestrato fu brucia ragazzo brucia perché per la prima volta si parlava di orgasmo dell'orgasmo femminile che era una parola tabù credo che nessuno molti insegnano sulle riviste come ti devi masturbare soggetto dalla frase le donne ma all'epoca la parola orgasmo credo che non non fosse mai uscita su nessuna rivista né maschile né femminile e il plot è noto il fatto che come dire la donna non aveva mai provato l'orgasmo lo prova con un ragazzo va dal marito e gli dice perché non con te ecco questo è il plot poi naturalmente la buona borghesia italiana ha fatto il resto la stessa cosa poi è successo essendo un uomo libero che io facevo le cose senza pensare che poi dopo ci potessero essere delle conseguenze quindi la stessa cosa ho fatto quando scrivevo e giravo e facevo proiettare i noir ho avuto sempre fastidi con la giustizia ripeto l'espressione dei benpensanti qua la giustizia invece sui noir non era l'espressione dei benpensanti ma dei democristiani al potere e quindi ebbi querele da gioia che si riconobbe nel boss poi quel cretino capì dico cretino è morto e mos omnia solvit tu che sei latino vedi la citazione insomma fu un cretino perché si fece una pubblicità negativa ma se si stava zitto nessuno arrivava a lui perché ovviamente il film non era strutturato a farlo riconoscere io poi nella scena dell'obitorio ne citavo tre quattro di noti boss democristiani legati ai boss mafiosi citavo Lima questo nel 72 Andreotti nel alla fine degli anni 90 non sapeva manco se Lima era mafioso non l'aveva mai saputo e stava negli atti dell'antimafia da quando lo citavo e naturalmente fu un momento pericoloso perché io non feci soltanto questo cioè se c'era un posto dove una macchina con diciamo così i mafiosi si fermava dove era la sede della democrazia cristiana a Palermo quindi a Palermo il film fece un tale scalpore per altre citazioni perché c'era pure il cardinale Ruffino quello che aveva detto anni prima che la mafia non esiste quindi faccio vedere il cardinale nel film a Palermo fece uno scalpore tremendo nel resto d'Italia no perché i fatti non li sapevano poi si sa che il pubblico italiano è il pubblico credo più cialtrone dopo quello americano che ci sia non è così in Francia ma manco in Spagna non parliamo dell'Inghilterra che è il paese più civile che abbiamo quindi rischiai pure un pochettito perché come dire quando ritirò la querela gioia che capì che aveva fatta una fesseria io pensai che qualche rivalsa in qualche maniera se la sarebbe presa invece poi sono qui a raccontare l'aneddoto per il poliziatra a marcio poi il solo titolo fu trovato insultante il fatto che ci fossero i manifesti con il titolo il poliziatra sdegnò talmente i celerini e naturalmente il viminale che io ebbi varie telefonate con tono minatorio tipo lei non si deve permettere a cui io rispondevo con parolacce quali che fosse l'interlocutore ma dovevano essere anche di alto di alto grado ma mi attaccarono oppure quando io feci dopo che Brucia Ragazzo Brucia fu assolto io feci su giornali diciamo così dello spettacolo feci mettere una pubblicità finalmente la giustizia ha detto sì al sano erotismo che era uno sfottere tutti quelli che si erano incazzati perché il film era stato assolto a Rimini da che è una frase che amo ripeto ogni volta che capita il pubblico ministerio fece la più bella critica che gli abbia mai avuto su Brucia Ragazzo Brucia e le spettacolo che si è un'imagine 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 ma dovevano essere a rimini Grazie a tutti.